Sì, la storia è stretta, c'è da dire che siamo partiti molto male, abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, dopo abbiamo fatto una grandissima mezz'ora e lì abbiamo messo quasi al sicuro la partita. È peccato quel rigore che è andato sulla traversa e che poteva chiuderla definitivamente e poi agli ultimi minuti abbiamo preso il gol, fortunatamente poi è finita, però credo che comunque la squadra sia in crescita, soprattutto visto la mezz'ora del secondo tempo. Certo, se il Verona del futuro sarà quello del secondo tempo ci sarà da divertirsi e ci sarà da divertire il pubblico, un po' meno se sarà il Verona del primo tempo che è veramente preoccupante. Ma è stato un Verona dal doppio volto, come ho già detto, io mi auguro che il vero Verona sia quello del secondo tempo, che ha fatto vedere aggressività, ha fatto vedere buon gioco, ha fatto delle belle occasioni da gol e credo che la nostra strada sia questa. È stato bravo questa volta a non farsi espellere dal direttore di gara perché è il famoso arbitro di Verona Fiorentina dello scorso campionato che in molti ricordano. Ma probabilmente non siamo molto fortunati quando arbitra questo, però non voglio parlare degli arbitri, io sono troppo preoccupato a guardare la mia squadra ed è questo che mi interessa. Come ho già detto, una buona ripresa e speriamo che questo sia l'inizio. Ciao Berglin, una partita fantastica. Due gol che possono permettere al Verona di ripartire in campionato, due gol che sono serviti per i tre punti oggi. Ora ce ne devi promettere due per la prossima. Ciao Berglin, due gol, un fantastico match. Due gol per il nuovo match contro Tavagnacco, due gol per la victoria oggi. Quali sono le vostre emozioni? Sono molto felice con il gioco, come abbiamo giocato il gioco. La prima parte ha iniziato lentamente per noi, ma siamo molto meglio nella seconda parte. Sono felice con i miei due gol e credo che ci dà la squadra un'estima. Allora andiamo al prossimo gioco con una fiducia piena. Sono felice di come abbiamo giocato il primo tempo. Abbiamo giocato un po' piano, poi il secondo tempo è stato migliore. Ovviamente sono contento di aver dato una mano alla squadra in un momento di sofferenza e spero che questi due gol servano anche per risollevarci. Do you feel better with the help of Sofia Congouli in the second time? Ti sei trovata meglio con l'aiuto di Congouli nel secondo tempo, con il cambio di modulo, con la sostituzione? Sì, mi sono trovata meglio perché poi avere una spalla è sempre buona cosa. Sono contenta che questa collaborazione sia riuscita e siamo riusciti a vincere nel secondo tempo perché poi i gol li abbiamo fatti nel secondo tempo. Spero che la cosa si possa riproporre. La prossima partita c'è il Tavagnaco. Ci prometti altri due gol? Nel prossimo gioco c'è il Tavagnaco, è contro il Tavagnaco. Do we want to go in goal again? Two goals again? Yes! Why not? Sì, perché no? Sarebbe meglio. Bianca, una buona prestazione la tua, un quasi gol salvato dal portiere con l'aiuto della traversa. C'è da essere soddisfatti quest'oggi, un Verone che ha vinto anche oltre il risultato risicato. Sì, c'è da essere contenti perché nonostante non abbiamo strafatto, comunque si vede che qualcosa sta cominciando a cambiare e stiamo cominciando a ingranare anche come squadra. L'ambiente era molto più positivo, direi. Cosa è successo nell'intervallo? Perché è uscito dagli spogliatoi un altro Verona. Eh, diciamo che qualche parola del mister ci ha fatto tirare su di morale. No, ci ha sgridate abbastanza e ci siamo un po' riprese, sì. Un Verona che ora avrà una trasferta difficile a Udine. Sì, ci aspetta una trasferta molto dura e speriamo di avere una prestazione migliore di quelle avute nelle ultime tre settimane e partendo da oggi e ingranando ancora di più questa settimana.